Io ricordo sempre lo slogan delle tre A, A come adesione allo screening mammografico, A come autoesame del seno, soprattutto nell'intervallo tra due teste successivi e A come appropriatezza nel richiedere esami diagnostici di prevenzione. Torna come da tradizione l'Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Ad Arezzo grazie alla collaborazione tra Asla, Calcit ed Andos è in programma per sabato 22 ottobre un'intera mattinata di informazione alla quale parteciperanno medici e professionisti in grado di rispondere a tutte le domande delle donne che si avvicineranno. Si tratta di promuovere la salute, in particolare la prevenzione al tumore della mammella. Si tratta quindi di prevenzione primaria, cioè l'adozione dei corretti stili di vita e prevenzione secondaria, cioè la capacità di rilevare dei tumori quando sono soprattutto di piccole dimensioni. Il test di eccellenza per questo tipo di prevenzione è la mammografia, quindi si parla di screening mammografico. È dimostrato che lo screening mammografico riduce la mortalità di circa il 30%. A partire dalle 9.30 ci saranno momenti di informazione sia in ospedale che in città, nella centrale Piazza Sai Jacopo. Siamo a disposizione di tutte le donne, le persone che richiederanno delle informazioni per quanto concerne quindi la prevenzione primaria e secondaria. Poi siamo a disposizione in centro città, il gruppo della Breast Unit per rispondere a quello che poi è il nostro percorso di prevenzione e cura.